Il tema del federalismo non può essere lasciato alla Lega, è materia nostra. Semmai penso che noi dovremmo fare con più forza la denuncia di cosa è stata questa stagione di federalismo o di governo della Lega. Perché questa stagione è stata la stagione che ha impoverito come nessun'altra i comuni, che ha impoverito come nessun'altra le regioni, in cui nella mia regione, la ricca Lombardia, oggi il trasporto pubblico ha avuto un taglio del 50% delle risorse e si sono dovuti aumentare i biglietti dei treni per i pendolari. Perché nella mia regione, dove la crisi morde di più, dove sono tante le persone che non ce la fanno più a pagare l'affitto, si è dimezzato il fondo sostegno affitti perché il governo ha fatto arrivare... È uno strano federalismo questo e io credo che dobbiamo denunciarlo con più forza ed è uno strano federalismo questa idea in cui si aumenta la spesa pubblica e si tenta di scaricare sugli enti locali questa scelta. O riduco i servizi o aumento le tasse, facendo in modo che nessuna responsabilità ricada più sullo Stato centrale. Io sono un po' colpito perché in Lombardia sento spesso spiegare che la Lega è la modernità, il futuro, raccoglie le spinte di una società moderna. Non c'è nulla di moderno nella conservazione, nel tentativo di difendere i privilegi di alcuni, di rinunciare a progettare il futuro.